Ciao ragazzi, oggi andremo a fare una bella piadina con queste due bombette una piadina da 6,50€ queste sono delle bombette molto semplici di vitello hanno all'interno soltanto il formaggio pecorino ragazzi, dato che sono tenerissime, le andiamo a lasciare al sangue arrivato a questo punto mettiamo la piadina sulla piastra e nel frattempo le andiamo a spezzettare in due le bombette così sono più comode da mangiare ragazzi concludiamo la piadina con delle melanzane sott'olio la rucola fresca e le scaglie di grana chiudiamo il frutto prima di tagliarla andiamo a fare una piccola incisione della stagnola così evitiamo che la stagnola entri all'interno della piadina ok, parta l'incisione la dividiamo ed ecco ragazzi il frutto quella è il frutto e riposire iだCharles che